Sono scordata proprio che quello era il pulsante per spegnere la videocamera e ho fatto spegnere tutto! Madonna! Ma ha fame? No, sono... non ha fame! Ok! Ma una loca non vuol dire... non vuol dire che... Beh, che... Che l'ho sbloccato, non vuol dire un lock che l'ho sbloccato, cioè... Ora voglio la nana, voglio la rana, ti prego, ti prego, ti prego! Pick up! Ecco, brava, brava, ora te ne puoi pure andare... Però perché ti voglio, voglio, voglio trade, trade, trade! Bene, 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 ti do questo! Per la tua... Vabbè... Beh, posso fare qualcosa nella mia vita, oltre a parlare delle mie amiche? Oh mio Dio, vorrei tanto che una mia amica... Che una mia amica stessa... Aspetta, vado un attimo a chiamare Fiocco 41 se entra qua... Ecco ragazzi... E' entrata! Fiocco è entrata, perché... Oh mio Dio, mi casca due, cosa, oh mio Dio... Vediamo qua... Troverete ora... Ehm... Strano... Eh, vedi, vedete, è qua, è qua, però non è nel mondo... Non è nel mio mondo, però... Andiamo davanti ai pacchi regali, perché io so che lei si... Sempre si teletrasporta là... Andiamo ora... Ora, ora, ora... Dai, dai, dai... Vediamo se si teletrasporta... E se ci regala qualche pet, un suo pet... Almeno per una volta ti prego... Dai, dai, dai... Dai... Dai, svelta, perché non arrivi... Dai, arriva... Arriva... Se no mi annoio... Tutto il tempo... Ma vieni, oh... Dov'è? Non è in camera mia, vi giuro... Però non c'è... Da cazze... Vediamo qua... Non c'è... Oh, ma non c'è... No, 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 raga, io non so cosa va... Non so cosa va... Oh... Scrivo una... Qualcosa, vediamo se c'è... Dove si risponde... Non fate caso alla tastiera... No, 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 non è nel mondo... Raga, questa non è nel mondo... No, riprovo a chiamarla, oh, raga... Che devo fa'? Ragazzi, realmente l'ho chiamata... Ma forse sta entrando... No, 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 spero, spero, spero che è entrata... No, 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 raga, non c'è, raga, non c'è... No, 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 raga, non c'è, raga, non c'è... Ellie non c'è... Ellie non c'è... Che comunque non si chiama Ellie... Non è sulla vita reale, non è su Roblox... Vediamo... Va, vediamo se arriva, va... Dovrebbe arrivare, aspettiamola qua... E lo metto in pausa... No, raga, penso che non arrivi... No, raga, ho paura... Ho paura, estremamente paura... No, no, raga, non c'è... Proviamo sempre io, vai... Penso che ce la faccio... Penso che ora... Ce la faccio completamente... Ho realmente paura, ragazzi... Lo credete quanto? No, 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 no... Vediamo su Friends... No, è Xito... Ah, no... È qua... Oh, sì... Madonna, ma... Non male che... C'è... 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 Sì, c'è... 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 Io sto premendo spazio... Perché... Sono felicissima... Perché sto... C'è, lo sto premendo... Mi è arrivata una Claudez, penso... Ho letto bene, penso... Oh, ma la trollata, quella schifo di ragazza! L'ha trollata! L'ha... Trollata! Ma guarda, guarda... Guarda, niente io ti do... Stupida! L'ha trollata... Mo' li scrivo... Mo' li scrivo... Ti ha trollata? Vediamo... Vediamo cosa risponde... Vediamo cosa dice... Sì... No, ma povera... No, ma povera... Vediamo... Ecco sì... Stavo dicendo una cosa... Vediamo cosa mi dà... Ho paura di cosa vuole darmi... No, io lo giuro, lo giuro... Ho paura di darmi dei pet... No, 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 raga... Ho paura... Mi dispiace... Mi ha dato un crackhead... Va bene... Fratellanza... Fratellanza... Vabbè... Mica mi vuoi trollare... Mo' dopo le lo scrivo... Dopo dopo... Dopo lo scrivo... Dopo le lo scrivo... Eh, vabbè... Lo scrivo... Mica mi volevi trollare... Vediamo... No... No... Famiglia... Ok... Vanno a... Rimpicciolirmi... O lei va a rimpicciolirsi? Bubles... WGF... Questa mi ha rubato il nome... Di pura volta... Bubles... No... Closet... Ti sei rubato il mio nome... Closet... WHAAAAAT? WHAAAAAT? Penso che questa sia... Perché non corre? Non corre... Però non corre... Non... Ma... Non... Ma... Non... Non... Ok... Ok... ok ok vediamo se ci sta andando è fermata lì oh no che sta andando bene c'è andata ragazzi penso che verrà da meglio comunque c'è mio frate mia sorella e anche lei sta giocando ad Adopt Mima ora non ci pensa proprio di vedermi ora no non ci pensa proprio perché ora gli piace così tanto che che ora vuole giocare da sola perché io non gli do mai pet eh secondo me però si è ingazzata occo va boh ah eccola che carina vediamo vediamo ma si è andata sul collo amore amore vediamo però se se tira fuori un pet una psicomatti mi ha dato questa cosa ok è che da tanti 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 una limonade sai che che vabbè ha uscito questa cosa ok ma ora ha uscito questo ok andiamo andiamo dai 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 stroller ne ho no ma porca quella miseria andiamo vai i miei sempre più forti aspettate ragazzi volevo fare una cosa aspettavo che lei dica qualcosa vediamo se usano a dargli i pet perché ma no si è presa la oh ma che vuole questa la buttata del bare che vuole quella poi si ma poi si buttano le bambine nel bare amore mio lo lo prendo e attraga con me ma perché ora ho il mio toro lolli lolli smetti fai soltanto vergogna ora non puoi prendere il mio non puoi prendere la mia togli il pet oh vabbè meno male perché se ci insegno un'ora ci insegno un'ora ok dai 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 sì 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 facciamolo ti ha fuori la tua pizza va beh sta cercando la tua pizza dov'è un'ora 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 va bene tieni tra l'ora l'ora l'ho buttata nel mare poverina forse sta dicendo quanto è difficile salire su questa pizza gigante ma no perché si è finita perché è finita in aria la pizza l'avete vista anche voi oh ma lo sta andando tanto anche a lei questa mi ha chiamato poco fa quando gli stavo dicendo di venire mi ha detto pure quando vengo sempre in Adopt Me mi dammo cento frianza quindi forse posso prendere anche il mio pet vediamo cosa dice togli ok ok fiocco cosa mi vuoi dare mi vuoi fare mi vuoi non mi vuoi bene tu forse non mi vuoi bene gioco cosa mi vuole dare ma no se le stanno prendendo la stanno prendendo ah no e la sua amica chiara è uscita ora trade dai vediamo di nuovo cosa mi voleva dare dai vediamo la terassino l'ha tolto dai la terassino ok no l'ha tolto ah no che l'ha rimesso ah zo adesso mi dà anche un pet un pupa zo applausi applausi è stata mia madre perché non devo urlare non sentite voi vostra madre perché fa dei muri quando quando fate troppo rumore prendiamo la mia pacca facevo qui la pizza gonfiabile tanto chi se ne frega che cazzo è successo perché la pizza si è alzata e si è messa qua ma sotto ce l'oceano ho capito io non capire ma io non capire ciao ragazzi